Io compongo qui, vicino alla finestra, dove ogni tanto mi affaccio a riposare. È bello guardare il corso affollato, illuminato dalle luci della sera. Ciao! O chi sei? Sembri un angelo. Sono un angelo. Sono la tua coscienza. Ma io ti vedo. Mi vedi? Perché mi sto facendo vedere. Ti voglio aiutare in ciò che stai facendo. La musica appartiene alla creazione. Tu ami tanto la musica. E ne vorresti fare una che parli ai cuori, alle coscienze, quindi agli angeli. Tu cammini nella strada dei principi, rispettando come li trovi senza volerli cambiare. Da farli così trovare a chi camminerà dopo di te? Semplici. Come li hai trovati tu? E nど возможность! E n == Seć facendo. E n s'perctapel. Con partial Ma Quanta, tanta gente a camminare, per il corso, a scambiarsi in due parole e un sorriso. Dalla mia finestra li guardo passare, sopra il ponte c'è una luna che fa sognare. Ed io così sento i suoni della vita e me ne torno a disegnare queste mie note sul pentagramma. E lo sai, sono le piccole cose, ad aprirti le finestre sulle aspirazioni alle grandi cose. Le puoi desiderare, le puoi sentire, le puoi ottenere. Se tu avessi già le grandi cose, come potresti volere di più? E guardo il campanile con l'orologio e sembra che voglia salutare la gente con suo don don. Guarda, quelli sono Sergio e Raffaele. Sì, vanno a prendersi il caffè. Ottavio, la Carla con Luciana, Stefania e Donatella. E loro sono Giovanni, Maria Laura e Liliana. Quanta tanta gente a camminare per il corso, a scambiarsi due parole e un sorriso. Sono loro le note nel mio pentagramma musicale. Sì, sono proprio loro. Ma sto camminando a un volo, a mezz'aria. Ma sono già più alto dei tetti. Il minonno sesto nel campanile. Fabrizio, Carlo, ma le note si accendono nel pentagramma. Sì, dormi, dormi. Stai sognando tutti i tuoi desideri. Sì, dormi, dormi. Stai sognando tutti i tuoi desideri. Grazie a tutti i tuoi desideri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.